Ormai è stato inserito a rate nelle bollette elettriche, ma il canone che i cittadini italiani devono pagare per il possesso della TV è sempre in vigore. Però c'è chi questo canone non deve pagarlo, e allora può dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione disponibile online. Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone TV per l'anno 2018 scatta già a partire da gennaio, per evitare il primo addebito e quindi di dover poi richiedere il rimborso, è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre o entro il 20 se viene presentata per posta in forma cartacea, lo fa sapere l'Agenzia delle Entrate con una nota. A introdurre la presunzione di detenzione dell'apparecchio TV nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza enagrafica, è stata la legge di stabilità 2016 che ha previsto, per i titolari di un'utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone TV per uso privato tramite addebito sulla bolletta elettrica in 10 rate mensili. Per superare questa presunzione ed evitare quindi la debito in fattura, i cittadini che non possiedono l'apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quale il dichiarante è titolare di un'utenza elettrica è presente un apparecchio TV da parte del dichiarante stesso o di un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello può essere utilizzato anche da un'erede per dichiarare che nell'abitazione in cui l'utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata ad un soggetto deceduto non è presente alcun apparecchio TV. Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e della RAI. Nei casi in cui non sia possibile l'invio telematico è prevista la presentazione del modello insieme ad un valido documento di riconoscimento tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata a dichiarazione di non detenzione a validità annuale.